Buonasera mister, partiamo innanzitutto dalla prestazione, una prestazione che ci ha portato un 1-1 ma secondo me poteva essere una vittoria per quello che abbiamo messo in campo. Sì, sono pienamente d'accordo con lei, abbiamo fatto una grande partita, l'avevo detto ieri in conferenza, avevo visto la squadra lavorare bene, lavorare in un certo modo, onestamente abbiamo giocato a pari livello contro una squadra fortissima e penso al netto del risultato forse meritavamo qualcosa in più, addirittura poi la partita la stavamo perdendo. Spero che prima o poi ci possa girare anche qualche episodio a favore perché abbiamo visto già a fine primo tempo forse c'era un calcio di rigore enorme su Arcangeli e il rigore poi l'hanno dato a loro, che ci sa, però ogni tanto magari un episodio a favore potevamo passare in vantaggio noi e all'ultimo secondo con Martinovic abbiamo avuto un'occasione da rete a un metro dalla porta, ha calciato anche bene Melania, ha fatto una grande parata del portiere che praticamente ce l'ha avuta in braccio la palla, quindi dai, sono molto soddisfatto comunque della prestazione che la squadra oggi ha fatto. In questa sua risposta ha citato due calciatrici, io le chiedo un giudizio su Arcangeli, nuova arrivata, subito messa in campo da lei dal primo minuto, un attestato di fiducia importante per una 2003. Sono stato chiaro con lei, innanzitutto faccio complimenti al direttore e alla società perché ha fatto un acquisto molto molto importante, abbiamo preso un prospetto di grande qualità, forse ha pensato più alla fase di non possesso che era stata sollecitata molto negli ultimi 15 giorni perché lei è un centrocampista offensivo, un attaccante esterno, noi oggi l'abbiamo fatta giocare dentro al campo, ha fatto un grandissimo lavoro nella fase di non possesso, ho fatto qualche numero importante nella fase di possesso, però secondo me poteva fare meglio ancora quando c'era la palla nei piedi, ci sa perché era da molto tempo che non giocava, sono stato chiaro con lei dal primo giorno, gli ho detto non sei una 2003, per me hai 30 anni, devi giocare da trentenne, dobbiamo fargli complimenti e dobbiamo coccolarla perché ce l'abbiamo in squadra, faccio un complimento anche alle altre che l'hanno fatta, stare subito a proprio agio e oggi ho fatto una buona partita ma può fare molto molto meglio. In generale diceva una buona partita da parte delle 11 in campo dall'inizio e delle subentrate, mi volevo soffermare oltre alla questione del rigore, anche a mio parere obiettivamente molto chiaro, sulla traversa colpita da Banusic ma anche sulle tante occasioni, ecco ne abbiamo create veramente tante. Sì, ne abbiamo create tante, ne conto 10 almeno, traversa, situazioni di pericolo anche a pochi metri dalla porta, lì dobbiamo lavorare meglio, però l'importante è veramente crearle, faccio un esempio, l'ultima partita con la Fiorentina veramente non avevamo creato nulla, non avevamo mai tirato in porta, l'Inter è una squadra forte come la Fiorentina e oggi abbiamo fatto veramente bene, l'Inter poi comunque ha messo in campo la migliore formazione, noi oggi abbiamo fatto giocare delle calciatrici che avevano avuto pochissimo minutaggio in passato, tipo Maia che secondo me ha fatto un'ottima gara, Lusi che ha fatto una partita importante, 30 minuti fatti bene, faccio i complimenti pure ad Arrigoni che è una giovane 2004 che secondo me sta crescendo tantissimo, è entrata e ha fatto molto bene anche lei, sono molto soddisfatti in generale, noi dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo lavorare come stiamo facendo. A mio ricordo Ciccioli ha dovuto fare una parata grossa, importante, ci hanno preso forse alla sprovvista nel momento in cui ci sono stati i cambi e Ciawinga è passata centrale, è stata forse l'unica sbavatura, cosa dice? Ciawinga quando gioca sull'esterno secondo me ti dà dei punti di riferimento, ti dà la linea, ti dà il raddoppio all'esterno del campo, forse in una zona centrale è più pericolosa perché può fare più cose, lì dovevamo essere bravi ad accompagnarla meglio e a non fargli fallo, il rigore obiettivamente c'è, in quel periodo lì della gara l'allenatrice Cicciolino l'ha messa di punta e è andata in profondità e forse nell'unica occasione siamo state leggerine, diciamo così, dovevamo essere un pochettino più attente ma fare 95 minuti così su Ciawinga è molto importante, noi veramente l'abbiamo limitata parecchio e prendo l'assist per Gloria Ciccioli che sono molto felice anche per lei perché non è mai facile, lei veniva da una partita molto complicata, un 5-5 a Cesena dove c'erano state un po' di situazioni difficili, metterla in porta, metterla qui poi sul Tardini poteva essere per lei un motivo di non tranquillità, invece Gloria è una professionista seria, lavora tutti i giorni benissimo accanto a Cappelletti e a Tinti, ringrazio pure il preparatore dei portieri Martino che con loro fa un grandissimo lavoro ed è difficile trovare tre portieri così unite nel lavorare così rispettose l'una dell'altra e quindi anche Gloria oggi ha fatto una gran bella partita, molto attenta a tutto quello che ha fatto, qualche piccolo errore all'inizio però è stata molto buona la sua prestazione nei pali. E chiudo pensando già alla sfida di Milano contro il Milan tra sette giorni, questa è un'inizione di fiducia a mio parere, indipendentemente dal passaggio o no del turno, però una partita così da fiducia anche in vista del campionato? Noi dobbiamo pensare a noi, obiettivamente noi abbiamo le prossime due partite che sulla carta sono molto proibitive, chi per una maniera e chi per un'altra, chi per un motivo e chi per un'altra, affrontiamo il Milan che è una squadra con caratteristiche sia tecniche che fisiche importanti, noi lo sappiamo ma abbiamo una settimana per prepararci bene, per cercare di lavorare al meglio, recupereremo ancora qualcuna che si sta comunque riprendendo e inserendo dopo un lunghissimo tempo, quindi come ho detto ieri sono molto positivo e ho molta fiducia per il futuro, indipendentemente da chi andiamo ad affrontare perché sulla carta le prossime due partite sono molto difficili. Buonasera mister, complici sicuramente i recuperi e tutto quello che comportano queste gare, penso che la ripresa del campionato sarà sicuramente positiva, ci eravamo visti dopo la Fiorentina e sicuramente il morale era non dei migliori, ad oggi invece la situazione è sicuramente molto più soddisfacente anche perché penso che oggi sia stata fatta una grande partita, quindi che cosa si aspetta da questa ripresa? Buonasera, innanzitutto buonasera, come ho detto prima mi aspetto un tantino, un pochettino di fortuna in più perché qua per vincere una gara dobbiamo fare veramente tanto, gli episodi ci girano sempre un pochettino contro ma non dobbiamo piangerci addosso, noi dobbiamo essere queste come siamo state nelle tre precedenti partite, non dobbiamo ripetere mai più il secondo tempo che abbiamo fatto contro la Fiorentina e dobbiamo veramente pensare di essere una squadra forte, ovviamente la classifica dice il contrario ma mi ripeto sono molto fiducioso per il futuro. Ringraziamo mister Domenico Panico, prosegue la nostra sala stampa, sostituzione al centro della nostra sala con Nora Erum, quest'oggi capitano di giornata e che capitano dice mister Domenico Panico e proseguiamo con le interviste di nuovo Pietro Razzini. Buonasera Nora, partiamo da una cosa speciale penso, quella cosina che si mette al braccio e per la prima volta è avuto da quando sei qui a Parma, quali sono state le tue emozioni? È sempre onore essere capitana, sì sono contenta per oggi, peccato il risultato ma eravamo una squadra, abbiamo giocato insieme e dobbiamo ancora lavorare di più ma sì, sono contenta. Che sia sulla fascia sinistra, che sia al centro della difesa, che sia centrocampo, un posto per Nora Erum in campo c'è sempre, sei una giocatrice capace di dare tanto agli allenatori, qual è il tuo ruolo preferito e diciamo come ti sei trovata oggi giocando sulla fascia sinistra? No, per me va bene, io voglio giocare dove si mette va bene, gioco là ma sì, ho trovato bene in sé centrale quindi ma sì, faccio tutto dove sono, non fa niente quindi sì, faccio sempre il mio meglio. Parlando della partita di questa giornata, dovevamo vincere per passare il turno, si è riusciti a pareggiare ma a parte il risultato io credo che la prestazione dia tanto coraggio a voi per come è stata giocata la partita. Sì, peccato che non abbiamo vinto ma sì, come ho detto prima, sono contenta, abbiamo fatto bene come squadra, abbiamo giocato insieme e sì, come ho detto dobbiamo ancora lavorare ma piano piano, adesso siamo forti, siamo una squadra forte quindi sì, adesso solo pensiamo il Serie A. Campionato. Sì. Hai avuto da difensore centrale Jelenic di fianco, adesso c'è Cox, per te cambia qualcosa avere un tipo di compagna o un'altra di fianco a te in difesa? Eh no, certo è diverso ma sì, come ho detto, tutti sono forti quindi certo che cambia un po' ma sì, non fa niente chi è vicino, per me siamo squadra forte e abbiamo fatto bene, Anna ha fatto bene, Cox ha fatto bene, oggi Maia ha fatto bene quindi abbiamo tante scelte. Una curiosità, quando alla fine della partita Martinovic ha avuto quell'occasione che stava per segnare il gol del 2-1, avevi già le braccia alzate, io ero lì che stavo facendo la telecronaca e ho detto lo facciamo, dai che vinciamo. Eh sì, peccato, peccato, sì, dai, prossima volta sì, facciamo. Ultima domanda, partita speciale, credo per te, la prossima, si va a Milano contro il Milan, hai vestito la casacca rosso-nera fino alla scorsa stagione, qualche tuo ricordo e insomma come vivrai l'attesa di questa partita? Eh sì, certo ho giocato con Milan, sì, è certo che è un po' diverso ma sì, loro hanno squadra forte e no, non fa niente, adesso facciamo tutto con Parma e dobbiamo vincere questa partita, questa è la nostra testa e anche per me dobbiamo vincere e fare tutto per adesso fare punti e sì, dai, andiamo a Milano. Grazie. Grazie.